Ben tornati amici su GP Games, ci troviamo su Dirty Bomb Quest'oggi mi sa che andrò a giocare con Vassili Poi in base alle esigenze userò un po' Nader e un po' Artie Di cui ho anche il Rode Out sbagliato perché ne ho uno migliore Però vabbè, pace, ho sbagliato Ora andiamo quindi con Col cecchino Cazzo è successo, si è imparlato tutto Allora, adesso usciamo per la mina innanzitutto Allora Allora, devo cambiare il PG però Ulla madonna Allora 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 Ammo Ok, ne abbiamo a parare Allora Allora So che ce n'è uno lì Allora 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 Non so perché non l'ha preso il primo colpo Ma vabbè Allora 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 Facciamo che butto il sensore di là Allora 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 ok io devo coprirgli adesso che porta l'obiettivo quindi me ne vado sopra la che si chiama va la gsb Siamo iniziati. Ho capito dov'è sopra. Objetivo è tornato. Nino una parte legale. Tipo la terra da che dove rand毀. Sì. Oh Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, bella partita. Mi sono divertito. 6-2. Ecco perché... Ecco perché mi sono divertito. Sì, comunque... Ripeto. Giocare con Vassili a volte può essere divertente. Come questa volta. Sì, è stato divertente. Ci becchiamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Bella da GP Games.